Buongiorno a tutti i giornati della natura, sono Antonio Abbate, oggi è una giornata particolare, bellissima, c'è anche la nave crociere che vediamo qui e Positano News cercando di spingere l'istituzione a sistemare quel tratto di sentiero. Come l'avete trovato quella parte? Un po' difficile forse quella... Anche comunque è un po' diciamosi, però il sentiero è bellissimo. Bellissimo, sì. Chiediamo l'istituzione di sistemare quel tratto, tu non sei sicuro. Ne vale la pena. Va benissimo, grazie da Positano News, grazie. Abbiamo anche altri turisti. Where are you from? Buongiorno. Buongiorno. Un tipo di Belgi. Belgi, Positano News. Buongiorno. Buongiorno, ecco qua. Come vedete sono in tanti.